Ciao, sono Ugo, ho 31 anni e lavoro da circa 8 nelle telecomunicazioni. La mia domanda era dove era la classe politica in questi ultimi 20 anni dal punto di vista della regolamentazione, della stabilizzazione mia e dei miei tanti colleghi nelle telecomunicazioni. Solo attraverso il sindacato siamo riusciti in questi anni ad avere qualche forma di tutela per quanto riguarda il settore.